Bene, grazie intanto di essere qui di sabato mattina alle 11 e mezza, ma insomma il Torino Spiritualità è un festival che da sempre è seguito con passione dal pubblico torinese e non. L'incontro di questa mattina verte sul cosiddetto mondo dell'arte contemporanea, quando mi è stato chiesto da Armando Bonaiuto e dalla direttrice Elena Leventhal di ipotizzare una specie di breve, chiamiamola così, lezione, giusto per tenere il tono un po' cattedratico di quando siamo in accademia o in università, provare a immaginare insomma un breve percorso sul rapporto tra l'arte contemporanea e la pelle, facendo però evidentemente una precisazione iniziale, ovvero se io uso la parola incarnato, voi sapete benissimo che questo termine ha a che fare con la storia dell'arte da secoli. Perché quando si pensa al corpo umano rappresentato soprattutto dai pittori è evidente che la tecnica, il linguaggio della pittura stessa va a prediligere determinati volumi, determinate zone d'ombra, determinate plasticità che poi voi rivedrete anche nella scultura. Con ovviamente sempre un dato da cui non si può prescindere, ovvero che si parla di oggetto rappresentato. Uso il termine oggetto non perché il corpo sia l'oggetto della rappresentazione, ma perché evidentemente il pittore o lo scultore hanno a che fare con tutta una serie di stereotipi visivi che fanno parte della tradizione artistica, soprattutto quando si tratta di immaginare corpi che hanno a che fare con l'iconografia classica. Quindi la storia dell'arte per almeno, diciamo fino al novecento pieno, è una storia di corpi rappresentati. Il discorso cambia radicalmente nel novecento e soprattutto cambia radicalmente nella seconda metà del novecento quando complici anche tutta una serie di mutamenti, anzi mutazioni, diciamolo meglio, di mutazioni della società contemporanea. Mi riferisco evidentemente al fatto che a partire dalla seconda metà degli anni sessanta il corpo è protagonista di una vicenda culturale. Con il corpo si possono fare tante cose, a cominciare dall'opporsi per esempio all'ordine costituito, oppure nel teatro, nella danza utilizzare il corpo non più semplicemente come strumento per andare a rappresentare un testo ma evidentemente per essere attori essi stessi di una sofferenza, di un disagio, di qualche cosa che può fare male. Il corpo rappresentato, la nudità per esempio è un tratto distintivo nella storia dell'arte su cui raramente si sono abbattuti, gli strali della censura, capita invece che a partire dalla seconda metà degli anni sessanta il corpo, che è un corpo vero e quindi acquisisce per così dire un realismo che evidentemente la pittura non aveva, può dare scandalo, può in qualche misura fare male. E allora noi abbiamo a partire proprio dal, non credo che tra l'altro non sia casuale il fatto che le prime manifestazioni sono a cavallo della fine degli anni sessanta, all'inizio degli anni settanta, quando la società soprattutto quella occidentale deve affrontare determinati cambiamenti molto molto forti, il cosiddetto 68 ma non solo, la cultura femminista, la cultura omosessuale, le differenze insomma, questa tipologia la potete appunto registrare non soltanto nell'arte ma anche per esempio come si diceva prima nel teatro. Pensate che il linguaggio cambia così profondamente che mette in crisi per esempio quel sistema paludato che conoscevamo tutti ovvero quello dei musei, nei musei non ci sono più soltanto opere appese alle pareti o eventualmente messe al centro della stanza come una scultura ma attraverso azioni, happening, performance, body art, l'arte assomiglia sempre di più alla rappresentazione teatrale perché presume un qui e un'ora, una cosa accade in questo momento ad una determinata, ad un determinato, in un determinato luogo ma soprattutto la cosa interessante che l'artista dopo secoli e secoli di rappresentazione diventa lui stesso il protagonista della vicenda. Signora c'è una sedia lì e ce n'è un'altra, l'ha trovata perfetto, diventa lo stesso o lei stessa e questo è un dato anche interessante, vedrete che sono proprio quelli gli anni in cui la presenza femminile aumenta in maniera esponenziale nel mondo dell'arte, adesso direi che è una condizione pressoché raggiunta il fatto che le donne espongano nel mondo dell'arte esattamente come i loro colleghi uomini, negli anni 60 non era proprio così, c'era una società che stava cambiando e che stava inserendo all'interno di un meccanismo tutto sommato abbastanza maschile o maschilista delle figure femminili e oggi vi ho portato una serie di immagini che ho buttato dentro in ordine casuale, non sono né cronologiche e neanche per così dire ecco alfabetiche, sono state messe un po' così ma per farvi vedere una serie di semplificazioni rispetto a ciò di cui io volevo parlarvi. Sono opere che vanno quasi tutte dagli anni 70 verso di noi con qualcosa di un po' più vecchio e come vedrete ci sono molte artiste donne, a cominciare da Anna Mendieta, anzi potremmo fare un gioco che io vi chiedo chi è? Come a scuola no? Ma si può, no non si può spegnere questa luce. Anna Mendieta, intanto un'altra cosa che accade di molto interessante in quegli anni appunto vi dicevo tra il 68 e i primi anni 70 è il fatto che anche la geografia dell'arte comincia in qualche misura ad allargarsi. Certo la globalizzazione non è ancora arrivata, ci vorrà ancora parecchio tempo, però ci sono per esempio degli artisti donne e uomini che provengono da paesi che non sono così centrali nel cosiddetto sistema dell'arte, Europa e Stati Uniti. Anche se come Anna Mendieta negli Stati Uniti lei ci ha lavorato, arrivava da Cuba, la sua famiglia ha avuto diversi problemi con il regime castrista e fuggita negli Stati Uniti e ha incominciato a lavorare con il proprio corpo. Ecco sono tutti artisti che usano il proprio corpo, la propria pelle. Non è più la tavolozza il luogo, anzi per meglio dire il supporto della rappresentazione. Il supporto della rappresentazione è il corpo dell'artista stesso che evidentemente presume un grado di avvicinamento così forte alla realtà che non ammette discussioni. Le sofferenze sono sofferenze vere, legittime. Il tempo che uno impiega a stare lì, a fare una determinata cosa, un tempo reale, non è un tempo fittizio o rappresentato. Ecco, qui Anna Mendieta una delle sue famose siluetas, che in spagnolo, in italiano il termine non esiste silhouette, di solito usiamo quello francese, che cosa fa? Lei in qualche modo fonde l'elemento land art con quello della performance. Land art è una di quelle tendenze che anche lì emerge verso la fine degli anni 60, i primi anni 70, per cui gli artisti decidono di rinunciare in qualche misura all'ombrello protettivo del museo, della galleria, dello spazio costituito e affrontare i grandi spazi, soprattutto gli spazi naturali. E lei in qualche misura rifacendosi anche a una modalità tipicamente ancestrale, molto legata alla cultura di origine, usa il proprio corpo, mette il proprio corpo sulla terra e poi sulla terra andrà a disegnare delle impronte utilizzando i materiali che trova, in questo caso sono materiali completamente naturali. E voi direte, d'accordo, questo è un lavoro per così dire che può essere interessante, ma non c'è ancora quell'elemento di rottura che invece troveremo, qui siamo nel 73, che troveremo in un lavoro coevo, Andrea grazie, ecco, un lavoro veramente tosto, rape scene, cioè la scena del rape, come si può dire, dello stupro, dell'atto di violenza. Allora Anna Mendieta studiava in un'università americana dove a un certo punto venne fuori uno scandalo, un grave scandalo perché pare che un docente avesse costretto una studentessa dei rapporti sessuali non consenzienti con atti di violenza. Oggi evidentemente tutta la comunità si andrebbe a ribellare ad una cosa del genere. All'epoca non fu così, anzi ci fu una sforza di omertà da parte del corpo docenti sulla vicenda. Allora lei decise di realizzare questa performance nella sua stanza in cui viveva in università, in cui appunto simulava un atto di violenza subita da lei, si fa fotografare così con i glutei sporchi di sangue e i calzoni tirati giù alle caviglie e fu un atto di denuncia estremamente violento, estremamente diretto, ma come vedete non rappresentato da una fotografia, da un'immagine, da un quadro, da una finzione, ma da una vera e propria performance, da qualche cosa che era avvenuto. Lei in qualche misura recitava un fatto avvenuto tra l'altro assolutamente nel luogo in cui viveva. Ecco, passiamo ad un artista leggermente presente, un artista che ha forse insegnato a tutti a fare performance e a fare body art, anche se conoscendone il lavoro Bruce Nauman ha affrontato la scultura, ha lavorato con il neon, ha fatto video, è un artista, credo che in questo momento a Milano ci sia una sua mostra all'Hunger Bicocca in cui si possono vedere dei lavori storici, altri sono stati esposti alla punta della dogana a Venezia. Ebbene, Bruce Nauman usa per esempio, in questo caso, il cosiddetto make-up, il trucco, su di sé, e questo è un frame di un video, in maniera anche veloce e compulsiva, come se fosse questo make-up una materia viva, una materia pittorica, se la sparge addosso, se la utilizza proprio come se fosse un materiale da sovrapporre alla propria pelle, al proprio corpo. Tra l'altro materiali che spesso provocavano arrossamenti, che provocavano in qualche misura delle piccole sofferenze al corpo. Ce n'è un'altra, secondo me, ecco di nuovo, praticamente è lo stesso film, lo stesso video, scusate. Come vedete, l'artista vuole essere una specie di altro da sé, vuole essere un personaggio diverso da quello che lui normalmente è. Recita, però non fa compiere la recita a un altro. Ecco, diciamo che uno degli elementi forse che si può in qualche misura così utilizzare per tutto quanto questo percorso è narcisismo. Cioè l'artista usa su di sé, in qualche misura cerca di specchiarsi all'interno del proprio corpo tutta una serie di pulsioni che vengono dal profondo, che sono da ricondurre anche in qualche misura alla sfera dell'inconscio. Il femminismo. Il femminismo, come vi dicevo prima, è uno degli elementi forse più urticanti, più violenti. Non è un femminismo che si limita, per così dire, a inventare, a cambiare la sintassi o la grammatica di una lingua per affermare il diritto al genere. No, era un femminismo politico, un femminismo molto faticoso anche da far passare, soprattutto come linguaggio all'interno di un sistema che, come vi dicevo prima, è totalmente maschile. L'immagine 5. Ecco, lei, Carol Schneeman, il fatto che quasi tutte le donne lavorino con il corpo nudo ha indubbiamente un'importante ricaduta sociale. È inutile che vi dica che il corpo nudo, soprattutto femminile, non solo, anche quello maschile, ma soprattutto femminile, all'interno della storia dell'arte, si porta dietro questo elemento di seduzione. Chiaro, no? E di conseguenza suggerisce anche una visione voyeuristica, ok? Diverso è se il corpo nudo non è più soltanto qualche cosa da contemplare o da guardare, ma diventa il veicolo operazioni molto forti, molto violente, che vogliono dire altro. E qui, per esempio, questo lavoro sui limiti. Ecco, la resistenza, il limite del fin quando ci si può arrivare, scusate, fin quando ci si può spingere a fare una determinata cosa che porta sofferenza. qui, Carol Schneemann, che è un'artista americana, diventa lei stessa pennello vivente per una sorta di scrittura automatica su questo grande, gigantesco pannello. Vedete che lei è retta da una specie di argano, carrucola, dove lei scrive, fa dei segni, cerca di fare dei segni finché ci riesce, perché questa carrucola la porta avanti e indietro, avanti e indietro. Il lavoro successivo, questo è un lavoro molto duro, molto tosse, forse il suo lavoro più famoso, lei è morta un paio di anni fa, Interior Scroll, lei dalla vagina estrae una specie di lungo carteggio in cui c'è scritta una poesia che va a leggere. Se noi pensiamo appunto a come il corpo ha interpretato, svolto questo ruolo, soprattutto il corpo femminile, di seduzione e ci mettiamo di fronte ad un lavoro del genere, ci rendiamo conto che un'epoca evidentemente sta passando, sta diventando sempre più vicina alle proteste, alle rivendicazioni che molte persone cominciavano a chiedere ad alta voce. Ovviamente sia nel caso precedente che in questo si tratta di performance che sono avvenute in un determinato momento e ciò che noi vediamo oggi sono delle testimonianze fotografiche, come se fossero di documentazione, che non sono a se stesse l'opera ma sono una documentazione, perché l'opera era in quel momento, poi è stata magari ripetuta qualche volta, però esattamente in quel momento. Scusate, tornando invece alla storia dell'arte, la storia dell'arte oltre ad essere piena di corpi nudi è piena di sofferenze. Pensate al martirio di San Sebastiano, per esempio, cambiamo pure immagini, grazie. Il martirio di San Sebastiano, tra l'altro insomma uno di quei santi belli, diventa anche un'icona gay a un certo punto, trafitto dalle frecce, non morirà a causa delle frecce ma invece morirà per via della peste, più avanti. Ci sono santi come San Rocco che portano le piaghe e si fanno guidare dal cane, insomma ci sono diversi santi e martiri raccontati dai pittori. Il caso di Chris Burden, artista californiano, è quello di assumere su di sé la sofferenza e di non differirla, di non ad altri e di non rappresentarlo. Lui, siamo nel 1971, Shot, questo è il titolo del lavoro, si fa sparare ad un braccio, ok? Vedete che c'è quel signore che, ovviamente un suo, si erano anche accordati che lo prendesse decisamente al braccio e non altrove, per chiudere, insomma. Ecco, gli spara al braccio e gli procura una ferita, la fuoriuscita di sangue e qui sembrerebbe di vedere, tra l'altro ecco, questo discorso della fuoriuscita di sangue è secondo me anche interessante perché, se ci pensate bene, quando noi parliamo di oscenità, se utilizziamo il termine un po' come lo pensava George Bataille, osceno è quello che non può essere rappresentato in scena, è quello che è fuori dalla scena e che cos'è che è fuori dalla scena, per esempio nel teatro classico? Il sesso, la morte, la violenza, tutti che sono irrappresentabili, di fronte alle quali noi chiudiamo gli occhi o per censura o per autocensura. Nel teatro classico, a un certo punto, anche quello shakespeariano, non è che si consuma l'omicidio da parte dove il mandante era Lady Macbeth, no? A un certo punto qualcuno diceva hanno trovato quello lì morto, ma non lo vedevate morto lì davanti a voi, non c'era la finzione, non si spingeva fino a quel limite. Ecco, la fuoriuscita di sangue, la fuoriuscita delle viscere, quindi quello che da dentro viene portato al livello della pelle, è una delle componenti più oscene, in fondo anche nei film dell'orrore. Noi sì, ci facciamo spaventare dalla falsa soggettiva di Dario Argento, però poi ci fa schifo, vogliamo usare questa parola, vedere budella o cose di derivazione organica. Quindi qui qualcuno a un certo punto disse ma perché lui si deve far sparare, perché lui deve assumere la sofferenza quando potrebbe rappresentarlo? No, è proprio lì il punto che in quel periodo storico, all'inizio degli anni settanta, gli artisti pensavano che non poteva più essere legittimato un lavoro che non fosse in qualche misura la risposta dell'arte nei confronti di una società violenta, di una società che aveva bisogno certamente di cambiare, di cambiare nelle sue profondità. Vi faccio vedere due opere, due immagini scusate, di un artista che invece è ancora vivo, anche Bruce Nauman è ancora vivo, Anna Mendieta è morta, la Caro Shiniman pure, Chris Burden di recente, David Emmons è un artista molto importante perché, qui siamo nel 75, perché è un artista di colore, afroamericano, vive a Brooklyn, nel 75 non esisteva l'arte afroamericana, non c'era, non è che si potesse dire erano pochi, no, il primo artista famoso che arriva, scusate di origine afroamericana è Jean-Michel Basquiat, bisognerà aspettare ancora, è 6-7 anni, 6-7 anni, invece David Emmons che è più grande, lui adesso ha quasi 80 anni, e per un lungo periodo della sua vita ha lavorato come artista di strada, cioè completamente fuori dal sistema, ora un suo lavoro può costare anche 2 milioni di dollari, l'abbiamo visto per esempio recentemente in una mostra a Parigi con lavori veramente importanti, ebbene in questo caso era un artista completamente fuori dal sistema, che lavorava anche con dei materiali molto poveri, i capelli, le sigarette che trovava, i mozziconi di sigaretta, gli oggetti abbandonati dalle persone, non aveva neanche uno studio, neanche un posto dove stare, e questa è una specie di antropometria alla Ivy Klein che poi vi mostrerò verso la fine dal titolo Body Print, poi ce n'è un altro, ecco, e qui vi fa vedere come lui lavorava, cioè con l'impronta del proprio corpo, dando ovviamente un senso forte a quest'impronta, il suo corpo, il corpo di un artista completamente escluso, completamente escluso dal sistema, che lavora con i mezzi che ha a disposizione, che sono pochissimi. Grazie, andiamo avanti, un'altra artista americana, morta giovanissima, tra l'altro con un passaggio piuttosto significativo a Roma, verso la fine degli anni 60, si chiamava Francesca Woodman, e queste, a differenza di ciò che avete visto finora, non sono performance, queste sono, le sue sono fotografie, cioè l'oggetto finito è una foto, che si può tranquillamente diciamo acquistare anche presso diverse gallerie in Italia e all'estero. Che cosa fa lei? Lei si inserisce in questa corrente che tra la fine dei 70 e un po' più avanti, inizio degli 80, quindi un po' più avanti rispetto a ciò che vi ho mostrato finora, si chiama stage photography, ovvero una fotografia posata, una fotografia molto scenografica, architettata nei minimi particolari. Lei per fare questo tipo di fotografie usa il proprio corpo ed è una ragazza molto giovane. Allora qui torna diciamo l'elemento sensuale, erotico, vuoi eristico, perlomeno dal punto di vista di chi osserva. Lei utilizza queste, invece le sue foto sono foto di grande sofferenza, però una sofferenza interiore, un corpo quasi sempre che raggiunge luoghi abbandonati, che non si relaziona con gli altri. Ecco, per esempio, guardate che fino qui abbiamo visto tutte quante operazioni di persone che non si relazionano con altre. In questo senso la nudità costituisce ancora, se volete, un ostacolo. E lei racconta per immagini, avrà scattato nella sua brevissima vita, l'emore giovanissima, 27 anni, una 200, 250 foto, non di più. E sono tutte quanti in questi luoghi un po' abbandonati, fattiscenti, che contrastano tra l'altro con l'armoniosità e la bellezza di un corpo, di un corpo giovane. E qui siamo nel 76. Invece, andando alle prossime due immagini, i segni, i segni, le cicatrici di un'azione, ecco, un'azione, cioè una operazione di performance o di body art, in qualche modo o in qualche caso può essere addirittura irreversibile, può lasciare dei segni sul corpo. E questi segni sono cicatrici dell'anima, come lei le chiamava, le chiamava spesso, quasi cicatrici sentimentali di un artista italo-francese che si chiamava Gina Pane, di cui vediamo questo lavoro e questo, che è uno dei suoi più famosi. Lei è tutta vestita di bianco, porta questo mazzo di rose bianche e qui si chiama appunto Azione sentimentale, 1973. Tra l'altro aggiungo con un particolare di cronaca, insomma, che in quegli anni lì diversi operatori della cultura italiana si occupavano di questo genere di arte. Pensate alla Galleria di Luciano Ingapin a Milano, lo stesso Cabare Voltaire qui a Torino, Paolo, forse tu, noi siamo un po' più giovani, però ecco, Cabare Voltaire è un altro di quei posti, insomma, dove spesso venivano invitati artisti molto, molto interessanti e dell'avanguardia internazionale, che all'epoca non facevano neanche il pubblico che sto facendo io stamattina, per dire, era veramente un ristretto gruppo di persone molto avanti. Il successo l'hanno avuto un po' dopo, quando diciamo sono state, uso un termine orrendo, ma perdonatemi, sdoganate determinate pratiche. Ecco, qui nuovamente l'autoferimento, imporre sul proprio corpo dei tagli da cui fuoriesce del sangue, quindi sentire male, sentire dolore, è una condizione assolutamente inalienabile per gli artisti di quel tempo. Anna Wilkie è l'immagine successiva, un'artista tedesca. Anna Wilkie è interessante perché qui c'è una serie di oggetti che lei chiama di stratificazione, questo è un lavoro del 78, che lei usa per modificare il proprio volto, per renderlo meno armonioso, meno bello, per toglierlo, anche poi vedremo in questo senso anche credo il lavoro di Orlan, per toglierlo da quella definizione che noi tutti ci siamo dati, per cui il nostro viso dovrebbe essere più bello. Tutti quanti facciamo, ma chi più chi meno fa in modo di renderlo, di migliorarlo, di renderlo più piacevole. Per esempio, ma questa è una condizione che arriverà tra un po' negli anni Ottanta, di allontanare i segni dell'età dal nostro viso, dal nostro corpo. Anna Wilkie, tra l'altro, fu autrice di un lavoro tosto, molto tosto, perché lei a un certo punto si ammalò di una malattia gravissima che purtroppo la portò alla morte. Lei decise di lavorare, di mostrare, di fare una serie di azioni di performance dal letto d'ospedale durante le sedute di chemioterapia, dove poi il suo corpo ormai era completamente purtroppo sfatto e volle identificare fino all'estremo questo rapporto tra l'arte e la vita. Torniamo indietro nel tempo, nel 1965, con l'immagine successiva, questo è un lavoro di Joseph Beuys, come spiegare la pittura a una lepre, è il titolo, anche ironico. Ebbene, qui c'è un altro dato biografico. Considerate questo fatto, ogni tanto qualcuno mi chiede, quando faccio lezioni, ma quanto in realtà della biografia o dell'autobiografia di un artista, ma si potrebbe usare lo stesso tipo di discorso, anzi forse ancora di più nei confronti della scrittura, quanto c'è di biografico, di autobiografico nell'esito finale, nel lavoro, che sia un'opera o che sia un romanzo, che sia un film. La risposta è ovviamente muta a seconda dei casi, però è evidente che in qualche caso, come in quello di Joseph Beuys, la questione dell'autobiografismo è fondamentale per tutta la nascita, tutta la genesi del suo lavoro. Lui ebbe, durante la Seconda Guerra Mondiale, era tedesco, quindi era nell'esercito tedesco. A un certo punto l'aereo su cui lui viaggiava, un caccio, venne abbattuto sul confine, credo, dell'Ossezia. E il copilota morì. Lui si salvò miracolosamente, ma con il corpo quasi completamente ustionato. e venne trovato da delle persone che vivevano in quella zona e che lo curarono con delle erbe mediche, con degli oli, con dei grassi, avvolgendoli in delle coperte. Questi elementi sono tornati per tutto l'arco del suo lavoro. Lui ha avuto una vita anche relativamente breve, proprio per i postumi di questo gravissimo incidente. Però lui ha continuato nelle proprie opere, non sempre, ma in situazioni magari particolari, a inserire proprio questi materiali che erano così legati alla sua pura e semplice sopravvivenza. L'immagine dopo... Quanto tempo ancora? Sì, mi devo sbrigare. L'immagine dopo è di un'artista italiana, che ti la rocca. Forse qualcuno ha visto la mostra qui al camera, è finita qualche settimana fa. Le mani, il gesto, diciamo, il nostro corpo non serve soltanto per evidentemente portare su di sé dei segni di violenza, ma anche per comunicare, comunicare con un linguaggio che può essere alternativo rispetto al linguaggio delle parole, quello che usiamo normalmente. Chietti la Rocca era un artista che veniva dal mondo della poesia visiva, poi ha incrociato l'arte concettuale, l'arte comportamentale, ha realizzato diversi lavori, ma li avrete certamente visti da camera, in cui l'aspetto, scusate, in cui il linguaggio, il linguaggio delle mani, diventa proprio la parte integrante. Provare a comunicare attraverso dei gesti molto semplici, che sono quelli che poi noi utilizziamo nella nostra quotidianità, forse senza neanche rendercene conto, decidendo di fare un certo tipo di gesticolazione, piuttosto che non un'altra. Siamo nel 73, salto in avanti di un bel po' di tempo, ecco, lui è Leith Bowery, è un artista australiano, che però sostanzialmente diventa poi londinese, naturalizzato londinese, se ne parte da ragazzino dall'Australia verso Londra, frequenta tutta una serie di luoghi, di discoteche, soprattutto della cultura gay, come il tabù, o Madame Yo-Yo a Londra, e qui introduce un elemento molto interessante, fin qui comunque noi abbiamo visto sempre corpi belli, giovani e belli, donne e uomini magri, cioè che corrispondono ad una certa estetica, a un certo modello estetico che ci siamo dati. Nel caso di Leith Bowery non è così, lui era molto grasso, ed era completamente pelato, era una specie di transgender, ma non proprio, non completamente, che uomo si travestiva da donna nelle sue performance, oppure si truccava, utilizzava dei vestiti, che tra l'altro si cuciva da solo, la mamma gli aveva insegnato a cucire quando partì dall'Australia, e che esibiva in queste serate alternative che non erano considerate delle vere e proprie performance artistiche, ma erano un po' a cavallo tra il divertimento, l'intrattenimento appunto e qualche cosa di più. Lui tra l'altro fece negli ultimi anni della sua vita, morì giovane, il modello per Lucian Freud, grandissimo pittore inglese, che era rimasto colpito da questa fisicità così esuberante, così prorompente, ma anche così inconsueta rispetto ai codici che noi ci eravamo dati. Andiamo alla foto successiva, questa è Marina Abramovic, una performance del 1975, quindi prima che lei incontrasse Ulai, di cui poi vedremo invece tra poco un lavoro insieme, e qui come nel caso di Ginapane, ciò che resta della performance è questa stella. portare su di sé i segni. Considerate, io non ho volutamente inserito all'interno di questa trattazione l'elemento legato al tatuaggio, perché sarà oggetto di una conferenza, penso oggi, è stasera. Ah, venite a sentire Oliviero Toscani, oggi pomeriggio alle 5, perché io e lui insieme potremmo dirne di ogni. No, davvero, quella è da non perdere, perché con Oliviero io non so mai quello che può capitare. Comunque, al di là di questa breve pubblicità, non ho voluto inserire l'elemento del tatuaggio, perché è vero che adesso nella body art è diventato un altro dei linguaggi contemporanei molto praticati, ma all'epoca no. Nella performance storica no, di fatto non era ancora, non era ancora, vi farò vedere solo una cosa, non era ancora sistematizzato. Se uno voleva fare un segno sul proprio corpo, era un segno, un'incisione, un segno molto più profondo, molto più, certo reversibile, perché dalle ferite si può guarire, grazie al cielo si cicatrizzano. Guardate questo lavoro che è del 75, guardate quello successivo, è anche lei una donna, si chiama Mary Cobble, militante femminista, molto attiva all'interno della comunità gay-lesbian, lei utilizza il proprio corpo per farsi scrivere dei veri e propri poemi, delle lettere, che possono essere qualche volta legate a delle azioni di denuncia, qualche volta invece possono essere semplicemente lettere d'amore, però tutto questo lo fa fare sul proprio corpo e come vedete, non so, questi non sono tatuaggi, sono proprio delle vere e proprie ferite, per quanto superficiali, che lei si fa scrivere sul proprio corpo. Ricordate quel libro di Janet Winterson scritto sul corpo, era uscito ormai quasi una trentina d'anni fa. Usare il corpo come se fosse una tela, come se fosse un supporto. Il lavoro successivo che, ecco, nel frattempo succede qualche cosa, ovvero la performance cambia un po' rotta a partire dagli anni Ottanta. Gli anni Ottanta per chi è un po' più grandicello ricorderà sicuramente che sono stati gli anni del bodybuilding, delle palestre, dell'abbronzatura permanente, eravamo tutti abbronzati negli anni Ottanta, tutti marroni, completamente marroni in qualsiasi stagione dell'anno, no? E comunque c'era quest'idea che finalmente il nostro corpo poteva migliorare per apparire e non soltanto per una questione di carattere etico. La performance fa incontrare la dimensione etica con quella estetica. Non a casa, all'inizio degli anni Novanta si comincerà a parlare di postumano. A Rivoli ci fu quella bellissima mostra post-human quando Rivoli faceva delle mostre. Sì, una volta le faceva. Questa bellissima mostra post-human in cui proprio vennero messi tutta una serie di questioni perché poi secondo me l'arte deve anche avere quello, deve sollevare delle questioni o quantomeno deve poter dialogare con altri aspetti della cultura su determinate questioni. Orland, artista francese che negli anni 70 era stata invece una vera e propria militante, molto tosta, molto combattiva, negli anni 90 decide che è ora di dare al suo volto un aspetto completamente diverso. Vuole diventare, vuole che il suo volto diventi una specie di iconografia artistica permanente e quindi decide di farsi, di sottoporsi a tutta una serie di interventi per modificare la propria faccia. se la vedete adesso ha un aspetto vagamente mostruoso, sembra un po' Berlusconi quando ha fatto il video del suo ultimo compleanno che dicevo che sembra una faccia di un altro davvero, sembra che si è stato applicato in volto la faccia di un altro però la cosa interessante è che questi interventi di chirurgia che sono le vie di mezzo tra la chirurgia estetica e l'operazione di body art vera e propria vengono trasmessi con un video a circuito chiuso da una vera e propria dove c'è una vera e propria equip medica che interviene sul suo viso. E poi cosa vi mostro? Vi mostro un artista giovane, abbastanza giovane che questi sono dei lavori ecco questi qua del 2013 lei si chiama Rejina José Galindo è un artista del Centro America dunque arriva da Guatemala secondo me lei arriva dal Guatemala se non ricordo male e comunque da un luogo in cui per esempio il regime militare è ancora è quello che ne detiene il potere e soprattutto nei confronti degli oppositori politici e delle donne ha avuto così degli atteggiamenti di grande durezza allora lei cosa fa? Utilizza il proprio corpo in azioni che sono delle vere e proprie dei veri e propri happenings politici cioè utilizza il corpo come uno strumento di denuncia per dire determinate cose questo lavoro si chiama si chiama Piedra Pietra e vuole appunto guardatelo lavori dove lei ecco questa è una cosa molto interessante lei si mette volutamente in pericolo poi è chiaro che a un artista è difficile che lo ammazzino soprattutto se uno da solo però lei forse è stata un po' tollerata dal regime rispetto ad alcune azioni però questa pericolosità andare a giocarsela fino in fondo provare a vedere fin dove il proprio corpo può spingersi evidentemente è uno dei linguaggi contemporanei che la performance ancora mantiene viva e mantiene attiva prima di lei c'è stato un artista molto interessante prima di lei nel senso come data la Galindo credo che abbia una cinquantina d'anni adesso ed è almeno 20 che lavora quello dopo grazie prima di di lei c'è stato un artista spagnolo che si chiama Santiago Sierra questo è un lavoro del 99 direi 99 sì lui è spagnolo ma ha deciso la fila degli anni 90 di andare a vivere in città a città del Messico come voi sapete è una città come tutte le grandi metropoli estremamente contraddittoria nel senso che forse città del Messico è un insieme di città stratificazioni continue ebbene lui aveva lavorato anche in situazioni molto vi ricordate il primo film di Ignarri tu Amore Sperros ecco una cosa del genere tanto per darvi un po' un'idea ebbene aveva comprato letteralmente quindi pagandolo la schiena di questi cinque sei ragazzi chiedendo loro di farsi tatuare una linea di 60 cm una linea orizzontale di 60 cm sulla schiena quindi una linea permanente in cambio del salario minimo della giornata di un lavoratore considerate che queste persone che lui andava a cercare venivano quasi sempre da situazioni delinquenziali o erano spacciatori o erano piccoli delinquenti comunque gente senza lavoro che viveva di aspedienti lui li pagava a giornata per tenere però questo segno permanente sulla schiena è interessante questo discorso secondo me perché ha una questione muove una questione di natura politica cioè di solito il lavoro crea un valore aggiunto marxianamente parlando nel senso che io per fare questa bottiglia dentro dell'acqua metto insieme tutta una serie di persone che lavorano al vetro che non so che come si fa a prendere l'acqua io non ho idea però ci sono le sorgenti in qualche non lo so l'imbottigliamento poi dopo c'è il packaging poi viene distribuito viene venduto nei negozi e alla fine qualcuno se la compra quindi c'è tutta la catena che alla fine dà un prezzo finale questo prezzo finale è l'aggiunta la somma tra il valore il valore diciamo reale e il valore aggiunto che costitua tutta questa serie di operazioni nel caso di Sierra invece si ferma prima quindi lui fa un discorso fortemente anticapitalistico non crea un valore aggiunto non do un valore aggiunto al mercato semplicemente gli compro il corpo e su questo corpo io faccio una linea gli faccio fare una cosa inutile che non ha noi di solito paghiamo le persone perché facciano qualche cosa di utile per noi giusto? invece in questo caso no le immagini successive queste e quelle dopo sono di un artista ah no scusami c'è ancora un Sierra ecco queste invece sono delle prostitute stesso ragionamento chiedeva e qui lo stesso ragionamento quello che abbiamo visto precedentemente loro tra l'altro erano molto stupite che gli venisse chiesto questo tipo di prestazione e non un'altra c'è anche ovviamente tutto il discorso del marchio del segno che imposto sugli altri però forse qui andremo oltre invece le immagini successive sono di un artista che adesso è considerata un artista molto importante vive a New York ma è di origine iraniana si chiama Shirin Neshat poi di recente un po' come Julian Schnabel ha svoltato nei confronti del cinema del cinema hollywoodiano ma questi lavori che sono invece degli anni 90 94 sì 94 sono lavori che hanno un'origine molto interessante che voi potete anche andare a rintracciare nei suoi primi video ovvero il rapporto tra l'amore e la guerra quindi queste donne che scrivono lei fotografa il lavoro finito qui è una fotografia però di nuovo come nel caso di Woodman c'è tutta una preparazione ovvero c'è un ritratto di una donna che imbraccia un fucile e poi sul suo volto viene scritta questa poesia d'amore di solito sono degli antichi lirici persiani questa è quella successiva mi pare ecco invece un lavoro molto più recente di un'artista cubana che si chiama Tania Brughera questo è un lavoro del 2020 e di nuovo qui siamo alla denuncia Tania Brughera ha lavorato tantissimo su questo su questi argomenti ha usato il proprio corpo mettendosi anche il cotalto lei ha deciso di rimanere a vivere a Lavana quindi non è è un artista internazionale che proprio secondo me per la sua internazionalità in realtà abbastanza tollerato alla fine il suo lavoro va e viene entra e esce insomma mentre quel lavoro successivo l'opera sull'immagine successiva è sono Ulay e Marina Abramovic in una delle loro performance più famose siamo nel 77 light dark sostanzialmente si prendono a schiaffi a dirla proprio così in maniera alla veloce la questione è interessante perché chiaramente prendere a schiaffi una persona si deve farle del male loro erano una coppia stavano insieme hanno sono vissuto insieme hanno lavorato insieme per 12 lunghi anni poi è andata a finire male ma questo fatto di voler far coincidere l'arte con la vita è indubbiamente un segno ricorrente nelle azioni di quegli anni non c'è differenza non simulo non metto in scena una finzione ti regalo una fetta della mia quotidianità e quel e queste performance di loro due sono basate proprio sul concetto di resistenza fisica fin dove posso arrivare perché poi li vedevi erano giovani belli alti con i capelli lunghi statuari in forma fisica eccezionale quindi la loro resistenza era anche c'era tutta una preparazione alle operazioni di body art e di performance che mettevano in scena proprio perché erano molto preparati dal punto di vista fisico vi ho detto che non vi mostro tatuaggi ce n'è soltanto uno questo di valley export valley export è un artista austriaca questo è un nom de plume lei decise di utilizzare come nome d'arte una marca di sigarette che all'epoca andava parecchio di moda body sign action qui decide siccome lei lavora molto sullo stereotipo della donna come oggetto sessuale come così anche sfida una certa mentalità maschile maschilista decide di farsi tatuare il gancio della giarrettiera che nell'immaginario erotico ha un significato evidentemente molto preciso lei decide appunto di di farselo di farselo tatuare e poi abbiamo ancora due cose una è questa qui la foto è storicamente una foto di Mimmo Iodice scattata nel 1967 progetto per un probabile suicidio lui un artista americano si chiama Vito Acconci si chiamava perché purtroppo non c'è più Vito Acconci e infine un'opera molto famosa sono le antropometrie di Yves Klein 1960 realizzate con i pigmenti blu sapete che Klein utilizzava prendeva le modelle e i modelli li cospargeva di questo pigmento blu poi si mettevano su questi grandi lenzuoli lui tirava i corpi e queste erano le impronte le stesse impronte di cui vi ho mostrato prima realizzate però in prima persona da David Helmuss ma grazie a tutti